Cresce la voglia di mangiare al ristorante, i lombardi spendono di più, un giro d'affari di quasi 15 miliardi di euro e aumentano i posti di lavoro del settore. Bar e ristoranti, piacere e motore della ripresa, cresce sempre di più la voglia di mangiare fuori casa, tanto da tornare a livelli pre-crisi e anche Lombardia si torna al ristorante, soprattutto per i pranzi di lavoro. Oggi il mercato della ristorazione Lombardo vale intorno ai 15 miliardi di euro, ci sono decine, migliaia, migliaia di imprese e la spesa pro capite di un cittadino residente in Lombardia è del circa il 10% superiore alla media nazionale. Aumentano i posti di lavoro nella ristorazione, 128 mila i dipendenti, quasi 64 mila i lavoratori autonomi, le imprese attive in Lombardia, oltre 50 mila tra bar e ristoranti. La riconferma di un ruolo di leadership del settore della ristorazione nella filiera agroalimentare, il settore più importante e ha superato agricoltura e industria alimentare. La federazione dei pubblici esercizi chiede al governo che il ministero dell'agricoltura sia trasformato in politiche dell'alimentazione.